Alessandro Gandolfi, Peter Paul Coppes di Rabobank ha detto occorre guardare 40 anni più avanti, cosa vuol dire per lei? Sento spesso dire il piccolo è bello ma il grande è necessario, questo è stato un concetto giusto che forse oggi guardare 40 anni avanti non è più sufficiente. Per me guardare 40 anni avanti significa che questo concetto deve essere superato mettendo in sintonia insieme la filiera perché continuare a perpetrare l'aumento delle aziende per abbattere i costi, questo sicuramente è una strada che abbiamo percorso fino adesso però io credo che non sia sufficiente per far mantenere le nostre aziende a galla perché possiamo anche aumentare come numero le aziende anche se io credo che ci sarà comunque a un punto che non si potrà più di tanto aumentare per abbassare i costi. Quello che noi abbiamo bisogno soprattutto come produttori italiani è quello di far filiera insieme a tutti gli attori soprattutto perché far filiera significa trattenere e aumentare il valore aggiunto del nostro prodotto quindi è giusto avere le aziende efficienti e aumentare ma è anche giusto e soprattutto guardare avanti, stare tutti insieme, superare tutte quelle barriere e quei confini che ci sono stati fino a ieri proprio per dare valore aggiunto al nostro prodotto dove tutta la filiera ne beneficerà.